Allora, ci sono l'angolo destro, Maurizio All'angolo sinistro, Giacomo Ciggio Valenti Ci sono anch'io in realtà che faccio la sfida E faremo una gara A chi con un portiere Non la so la sua filastrofa Per iniziare 5, 3, 3, 2, 7 8, 10 5 più 3 più 2 fa 7 6, 7, 8, 9, 10 Primo, secondo, terzo Prima tirale Questo è il primo tiro Ma tanto non mi chieda mai Ma fa che cosa? No, mi per favore, direi bene Vedi? Oh, oh No, ma è difficile La concentrazione del grande calciatore Si vede da questi attimi Allora, va Di sinistra Ma si fa Il piede è debole, questo finisce Il piede è in piedi, è a giro Devo analizzare il sogno con questo tiro Gianni, c'è sul punto di battuta Ragazzi, chi perde questa sfida Mi deve mille euro Ma non funziona oggi No? No È sempre lui, eh C'è anche lo stesso Ma non è possibile, raga Non te la vai, come è tolta E niente, questa sfida mi sa che la perderò, ragazzi Questa la dedico a te, mamma Vabbè, raga, questa la dedico alla mamma di Matteo che ci ha fatto il ciambello Ciambe golla Se scendeva Ehm, come l'MD Ma questo è bello, eh Ma questo è bello, eh Corini con il piede Vai in finale Non ci credo, ma, no, no Ma non è possibile, ragazzi Ma, mi pare normale Buona segno, eh Mi sono arrabbiato Bello Signori, ci sarà una finale incredibile In uno contro uno De Falco contro Contro Giasi Draco Draco versus Uno contro uno A tutto campo No, metà campo A Tutto campo Metà campo Tutto campo Abbattete la barriera Cosa sta facendo? Io lo sei scazzissimo Basta Cosa sta facendo? Hanno Questa è stata Questa è finita Rigori! L'azione di Rigori! Senti l'azione! Scusate, non l'ho venduta questa partita Scusa Gigi L'ultimo rigore è incredibile Ma il punto è Matteo che carazzi A meno che io prendi dalla pezza da qua Nooo! Non puoi aver inventato le regole A meno che non ti è capitato Matteo, carazzi da là Musica Ragazzi sei piccione, non so Abbiamo finito, dopo... Quanto è passato? Non si sa, un botto? Un'ora Ho vinto? Io Mauri Ho vinto lo sport Ho vinto l'amicizia Ho vinto lo sport E l'amicizia E l'amicizia Ci sentiamo alla prossima Che sarà domani con un video direttamente da San Raffaele, no? Di Roma? Sì, da Milano Milano, scusa San Vittore Quello è il carcere Ah, giusto E ciao Sì, da Milano